L'ultima parte è quella più statamente giuridica, vi faccio vedere un po' di norme dell'ordinamento giuridico italiano, quindi norme nel senso con la N maiuscola come abbiamo detto prima, esatto, dall'ordinamento giuridico italiano, quindi legislatore, poi ci sono delle sentenze che vi farò vedere, che parlano di queste cose. Quindi in teoria vi faccio vedere che tutti questi ragionamenti non sono pura filosofia del diritto o teoria economica o informatica, ma hanno anche un riscontro nel mondo delle leggi, delle regole, delle norme giuridiche in senso proprio. Allora, la prima pietra miliare che si cita sempre era una direttiva, soft law, quindi non ancora vera e propria norma, perché era una direttiva, non so se te la ricordi, la direttiva del ministro Stanka, ne aveva fatte due, una sull'accessibilità e una sull'interoperabilità. Sì, era, infatti, sono quegli anni lì, è 2003, 2000, guarda, mi sembra che qua su SSBT era o l'anno primo o l'anno dopo, o sono contemporanee, dunque sono le direttive, insomma, erano anni diversi, cioè, io nel 2003 avevo il Modem 56K, eh, a casa. Avevo ancora tutti i capelli, cioè, qua davanti anche, incredibilmente. E quindi sì, cioè, era un mondo diverso e all'epoca il ministro Stanka aveva fatto questa, era stata salutata come una mossa abbastanza innovativa. Era una direttiva, non un decreto ministeriale, lui aveva tutto il potere di fare un decreto, ha fatto una direttiva, quelle che adesso noi chiameremmo linee guida, forse. Europea, sì, uno pensa, all'epoca era direttiva, adesso le chiameremmo linee guida ministeriali, soft law, cioè, non so se da qualche parte avete fatto questa materia, però sono norme che, come dire, non ti faccio niente se non le rispetti, però dovresti rispettarle lo stesso perché vengono da un tuo superiore, da, gerarchicamente, no? Quindi, essendo un ministro, era il ministro della pubblica amministrazione, dell'innovazione, perché all'epoca era separato, sì, giusto, hai ragione, era il ministero dell'innovazione e quindi, in teoria, tutti i dipartimenti di quel ministero, ma anche tutte le pubbliche amministrazioni che facevano attività trasversali con quelle, dovevano, in teoria, rispettare perché era una direttiva che aveva da un ministero, però, non essendo un decreto, non c'era, come dire, non è azionabile di fronte a un giudice, cioè non ci sono delle sanzioni specifiche su, per coloro che non le rispettano. In ogni modo, e viene salutata come una pietra miliare, diciamo, perché tutti i principi che Stanca aveva già scritto in questa direttiva, poi ci siamo trovati nel CAD due anni dopo, cioè il codice di amministrazione digitale è arrivato nel 2005, ha un po', essendo un codice dell'amministrazione, vuol dire, che ha messo insieme, no? Quando chiamano codici, testo unico, sapete che è perché hanno preso delle leggi che c'erano, esistevano già, e hanno voluto fare un po' di ordine e hanno riassunto un po' il quadro normativo, no? Ecco, e lì è successo quello. Ad ogni modo, basta leggere, vedete, no? Nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili sul mercato, le PA, le pubbliche amministrazioni, dovranno seguire alcuni criteri fondamentali. Quali? Punto primo. La trasferibilità ad altre amministrazioni delle soluzioni acquisite. L'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le amministrazioni... Cioè, trasferibilità, scusate, faccio una notazione che non è da poco, eh? Perché l'esempio classico che si fa per terrorizzare l'utente e fargli capire che queste cose non sono roba da lezione universitaria, ma concrete... Voi venite ricoverati d'urgenza in un ospedale perché siete in vacanza, siete in Sardegna, e quindi siete all'ospedale di Cagliari, e il medico ha bisogno delle vostre cartelle cliniche precedenti perché scopre che ha delle... che voi avete delle caratteristiche, delle allergie particolari, avete fatto delle operazioni prima. Quindi prima di mettere le mani su di voi vuole sapere qual è il vostro quadro principale. Scrive all'ASA del vostro paese, che siete di Sesto San Giovanni, e gli rispondono, guarda, qua abbiamo i file in un formato che è proprietario, perché abbiamo comprato un applicativo particolare. Manda la cartella clinica all'ospedale di Cagliari, e lì là non lo aprono perché non sanno come aprirlo, perché il software non apre quel tipo di file, non è in un formato standard. E voi siete lì con l'anestesia nel braccio, dovete aspettare questo che vi opere. Ok, adesso questo è un esempio volutamente splatter, però per farvi capire che... oppure altro esempio concreto, partecipate a un... siete un gruppo, un studio di architetti, e partecipate a un bando per riqualificare la zona Bicocca. Sul sito per partecipare al bando vi fanno scaricare un bel file con le planimetrie su cui voi dovete fare il progetto. Scaricate questo file, ed è un file in un formato proprietario che vi richiede di comprare un software di Adobe che costa 7000 euro. Le licenze di alcuni software per designer, per architetti, hanno delle licenze che a volte arrivano per... E voi dite, cacchio, non mi conviene. E quindi non partecipate al bando. E quindi hanno violato un vostro diritto. Voi come cittadini che vogliono partecipare a un bando siete rimasti esclusi con una barriera che si poteva banalmente superare con un formato diverso. Ok, quindi questi sono due classici esempi. Quindi il fatto che si possa trasferire tra una pubblica amministrazione e l'altra, cioè ASL di... che non si chiamano più ASL adesso, ATS di... signi di vecchiaia queste. ATS di Sesto San Giovanni che parla con l'ATS di Cagliari, quindi due pubbliche amministrazioni che non riescono a parlare, trasferibilità delle soluzioni. No, scusami, trasferibilità delle soluzioni è proprio software. Cioè il fatto che il comune di Cagliari possa passare lo stesso software al comune di Quartu, perché hanno un progetto insieme e possono trasferire il software, quindi non solo i dati, no, il cosiddetto adesso chiamano riuso del software. Però adesso col fatto che ti devi dare comunque il codice... Però ecco, in teoria, trasferibilità tra amministrazioni, quindi non solo delle informazioni, ma anche delle soluzioni, cioè quindi anche del software. Interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le varie amministrazioni, quindi gli esempi che abbiamo fatto adesso, la non dipendenza da un unico fornitore, da un'unica tecnologia proprietaria, cioè... Facciamo un esempio concreto. Il dibattito che ci è stato in queste settimane su Kaspersky, l'antivirus, no? Sapete che la questione... Un antivirus molto diffuso che si fa in Russia, lo fa un'azienda russa, che funziona benissimo tra l'altro, uno dei più, però adesso con la situazione che c'è adesso alcuni hanno sollevato problemi di sicurezza. Dicono, ma che ne sappiamo di questo software, come viene aggiornato in questi mesi, chi lo fa, se non c'è un'intenzione sotterranea di usare gli aggiornamenti per fare dei danni all'Occidente. Allora a casa tua ognuno, il cittadino, può fare quello che vuole, installarsi, assumersi i rischi liberamente. Le pubbliche amministrazioni devono stare un po' più attenti, no? Sarebbe il colmo che i russi riuscissero a infliggere una... un danno economico a un ministero italiano, il ministero della difesa ad esempio, visto che l'hanno preso di mira il nostro... il mio concittadino, il ministro... eh, il di Lodi. Il mio concittadino l'hanno preso di mira, no? E in una dichiarazione dico, vabbè, per danneggiare il ministero della difesa mandiamo una bomba, fra virgolette, tramite Kaspersky, cioè tramite l'antivirus, su tutti i server del ministero della difesa. È un'ipotesi forse un po' fantascientifica, forse un po' eccessiva, però, no? Qual è il problema? Che se tu hai solo, sui tuoi computer di tutto il ministero, hai solo quell'antivirus sull'i, sei dipendente da questa azienda qua, che sta in Russia, e che non sai bene cosa sta facendo in questi giorni. E quindi uno dei principi... se ne parla da 2003, quindi è vent'anni che sta roba si dice. Punto 4, la disponibilità del codice sorgente per l'ispezione e trassibilità. Il concetto di open source, ve ne parlerà il professor Rossetti, probabilmente, non so, farai una lezione o... Ok. L'esportabilità di dati e documenti in più formati di 2-1 di tipo aperto. Quindi, scusate, ricalibro quello che ho detto prima, l'esempio della... dello studio di architetti, è più questo, il 5, il fatto che io possa esportare almeno... almeno mettetemelo in un formato almeno aperto. Quindi, sul sito c'è il bando, c'è la planimetria in un formato proprietario, se volete, ma devi darmi anche la versione in formato aperto. Ok. Questi principi sono stati poi ripresi. Abbiamo delle sentenze... Vado a finire, eh, 3 minuti. Corte costituzionale, due sentenze che, vedete, sono più o meno tutte di quegli anni lì, 2004-2008, non è un caso, erano gli anni in cui Internet è iniziato a entrare nei... Internet e i computer sono entrati nelle case delle persone. Prima voi eravate... appena erano i più piccolini. Però, insomma, il computer era una cosa che stava diventando di uso comune. Lo Stato disciplina il coordinamento informatico, oltre che per mezzo di regole tecniche, anche quando sussistono esigenze di omogeneità, ovvero anche profili di qualità dei servizi, di razionalizzazione della stessa... della stessa, penso... della pubblica amministrazione, perché questo è un copia e incolla tagliato. funzionale a realizzare l'intercomunicabilità tra i servizi informatici delle amministrazioni. Quindi, ogni tanto la chiama intercomunicabilità, ogni tanto la chiama interoperabilità, cioè stiamo più o meno parlando degli stessi concetti. Sì, in quanto non è un concetto. Eh no, esatto. E poi, finalmente, abbiamo avuto, diciamo, la norma in senso pieno, cioè il... diciamo, norma primaria la cambieremmo, no? Quindi, decreto legislativo. Decreto legislativo 82 del 2005. Cambiato più e più volte, l'ultima volta nel 2017, tant'è che ho dovuto aggiornare una slide e non mi ero neanche accorto che era cambiato. Il famoso articolo 68, che è quello in cui viene tutta la parte sull'open source, sull'openness, è lì, articolo 68 e 69. Ma poi ci sono le definizioni. L'articolo 1 ha tre definizioni che sono quelle di formato aperto, di interoperabilità, di cooperazione applicativa. Cooperazione applicativa riguarda solamente il sistema pubblico di connettività, ci interessa meno, ma formato aperto sono più o meno le cose che abbiamo già detto. Semplicemente qua sono cristallizzate nella legge e quindi c'è un riferimento più solido. No, nel senso che il tipo di cittadino non porta da un'iniziazione, devi garantire, no? Sì, nel senso che prima c'era anche il dubbio di cosa intendiamo per formato aperto, no? Perché prima la definizione che vi ho fatto vedere era quella dell'ITU. Uno potrebbe dire, ma l'ITU è un ente, ok, autorevole, ma è un ente privato, io, comune di Torino, perché devo rispettare quella definizione? Io me ne faccio una mia. Allora, ondevitare, soprattutto in queste norme tecniche, cioè questi decreti legislativi, che hanno una componente molto tecnica, si fanno le definizioni, ondevitare, no? La definizione di dato personale che c'è nel GDPR è, devi saperla, perché da quello capisci tutto. Ok, qua IDE, formato aperto, interoperabilità. E l'articolo 68 è quello che vi citavo prima. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parte di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica. Cioè, neutralità tecnologica è quello, cioè la tecnologia deve essere, non mi deve creare quella dipendenza, deve rimanere neutro rispetto ai dati che vengono trattati, cosa che abbiamo detto è più una chimera che altro. A seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, tra le seguenti soluzioni, cioè a chi si rivolge questa norma? Alle pubbliche amministrazioni. Voi dite, ma allora a noi cosa interessa? Eh, interessa di riflesso, perché se noi siamo lo studio di architetti o lo studio di avvocati anche, che deve partecipare a un bando, vuole che poi questi dati vengono salvati secondo un certo criterio. Però questa si rivolge più che altro alle pubbliche amministrazioni. Cioè dice che le pubbliche amministrazioni quando acquisiscono software per i loro usi devono farlo in questo modo, cioè cercando prima possibile, è gerarchico e quindi bisogna prima passare da... No, non è vero, non è gerarchico, perché software sviluppato per conto alla pubblica amministrazione non è necessario. Cioè non devo prima vedere se... se ho un'azienda che me lo sviluppa ad hoc, perché può essere che ci sia... riutilizzo, l'ipotesi B, riutilizzo di software a parte di esso sviluppati per conto alla pubblica amministrazione. Oppure che ci sia software libero o codice a soggente aperto. Cioè riesco a fare questa cosa utilizzando un software open source, come si dice. Oppure anche software in modalità cloud. Oppure software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. Oppure una combinazione delle presenze di soluzioni. Il tutto sta nel fatto che però nel momento in cui io scelgo una di queste devo motivare, e lo dice la norma successiva. A tal fine, cioè il coma successivo, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere l'acquisto, secondo il proceduro di QL-COME, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri. Quindi io prima, comune di Torino, Università Bicocca di Milano, prima di comprare un nuovo software per gestire le riprese in aula, devo fare una valutazione di questo tipo che rispecchia questi criteri e quindi mettere a verbale tutta una serie di scelte e decisioni che possono essere poi impugnate dai soggetti che si sono sentiti violati. Avevamo discorso all'epoca della scelta di Bicocca di utilizzare Gmail, no, ti ricordi, avevamo fatto tutto un discorso. Infatti, guarda, ho messo in rosso volutamente il punto B, perché il punto A è quello sul costo complessivo del programma. Il costo complessivo è delicato, perché vuol dire che devi calcolare anche la formazione. Cioè, se io cambio software, magari risparmio un sacco di licenze, ma devo pagare 30 ore a tutti i miei dipendenti per imparare a usare quel software, non ho risparmiato. Ok, ho risparmiato sulla licenza, ma poi a conti fatti ci ho speso di più. E questa è una delle grosse barriere, probabilmente anche in questo caso. Il B, quello che interessa di più a noi, nel senso della nostra lezione, deve riguardare se quel software garantisce un livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto, nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici e della pubblica amministrazione. E poi il C, garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto, e livelli di servizio in generale tenuto conto della tipologia di software acquisito. dibattito che si era aperto un anno e mezzo fa quando abbiamo iniziato a fare la didattica a distanza, no? Se avete qualche fratellino, insomma, magari anche loro stessi. No, però loro sono maggiori anni vaccinati, possono scegliere, fare le loro scelte. Nel momento in cui tu hai il bambino di otto anni, nove anni, che deve stare a casa e tu hai un tablet da spendere poco perché quello ti puoi permettere e fino a quel momento tuo figlio andava a scuola, le scuole si sono trovate in difficoltà. Hanno usato che cosa? Quello che si trovava sul momento. Facevano le lezioni su YouTube, fecevano le lezioni su Facebook, ho visto fare, no? Finché è arrivato il Ministero dell'Istruzione che ha detto fermi tutti un attimo. Visto che questa cosa non è più una cosa di due settimane come si pensava all'inizio ma ce la porteremo avanti per un bel po', stabilisco io quali sono le piattaforme che si possono utilizzare e quindi le scuole hanno dovuto un attimo darsi una regolata, ok? Quindi non si poteva più usare quello che si trovava. In situazione di emergenza le prime due o tre settimane valeva tutto. Poi si sono accorti che fare lezioni con i bambini di dieci anni su Facebook perché in teoria il bambino di dieci anni su Facebook non dovrebbe nemmeno esserci perché il limite sarebbe tre dieci anni, ok? E basta, infatti c'era un ultimo coma che vi... La cosa che fa ridere è che c'è, e chiudo, dice il codice, il CAD che l'Agide deve aggiornare questo elenco degli standard aperti, dei formati aperti utilizzabili in pubblica amministrazione. Io non l'ho trovato. Quindi diamo due, dai due banconote a quello che riesce a trovarlo, a quello che riesce a trovare è questo elenco che deve essere aggiornato ovviamente, non vale trovarme ne uno del 2007 perché è aggiornato annualmente in teoria. Grazie, questo è il libro da cui trago le cose. No, non solo, gliene regalo anche alcuni. Vi regalo, ho un po' di copie del libro del collega Carlo Piana che è... Dicono perché loro hanno la metà di Riccardo. Ah, ok. Il libro non sanno che cos'è. Facciamolo vedere anche qua. Non si accende, si aprono le pagine. Ecco, esatto. Libro, open source, software libro e altre libertà. Dice un po' le cose che abbiamo detto oggi. E anche altre problemi. Sì, perché parla anche di open source, parla anche di creative commons. Ne ho qui una decina di copie, chi lo vuole viene qua a prenderselo gratis. Grazie. Grazie.